Ciao, in questo video ti voglio parlare delle novità introdotte nella versione 3.1 del tema GeneratePress e perché sono importantissime perché cambiano radicalmente il tuo modo di personalizzare il tema WordPress, rendendo molto più semplice effettuare interventi sui font e sui colori del tuo sito. Per apprezzare meglio le novità vediamo però com'era la situazione prima, prima dell'arrivo della nuova versione. In pratica entrando in Personalizza e andando nella sezione colori del tema era possibile cambiare i colori per diverse aree del nostro sito, quindi ad esempio qua entrando in body potevo cambiare il colore del link però non era facilmente modificabile questa tavolozza colori. Dovevo ricorrere a un plugin tipo Central Coral Palette oppure entrare a livello di codice per definire questa tavolozza colori, ma non solo. Una volta che impostavo i colori qua, questi colori non erano automaticamente ereditati all'interno dell'editor di WordPress, quindi i colori che impostavo qua non erano gli stessi che mi trovavo qua. Era possibile farlo però era un pochino più complicato. Inoltre in caso di cambiamento di colore del sito, se ad esempio volevo cambiare sul sito il verde che avevo utilizzato fino a poco tempo fa con un rosso, all'interno degli articoli sarei stato costretto a entrare articolo per articolo e modificare il colore, appunto perché questi colori venivano assegnati esattamente a questo contenuto, ma non ereditavano impostazioni globali. Un'altra limitazione, diciamo così, era relativa ai font. In pratica entrando in tipografia, qua sto usando la versione premium di GeneratePress e ho la possibilità di andare a personalizzare i font di diverse sezioni, di diversi aspetti del mio sito. Però l'intervento è limitato a tutte queste voci che il tema mi permette. Se avessi voluto personalizzare qualcosa, qualche area che non è contemplati in queste sezioni, avrei dovuto ricorrere manualmente a inserire le regole in un foglio di stile. Vediamo quindi le novità introdotte nella versione 3.1. Ora che ho aggiornato la versione 3.1 del tema GeneratePress e contestualmente ho aggiornato anche il plugin GP Premium alla versione 2.1, in modo da sfruttare tutte le funzioni premium di GeneratePress, vediamo un po' come sono cambiate le cose. Andando qui nella sezione personalizza, ora nell'area dedicata ai colori, ho la possibilità di definire tutta una serie di colori globali. Pratica, questi sono quelli di default, ma se voglio cambiarli mi basta cliccare, scegliere un altro colore e automaticamente personalizzare il tutto. Posso anche aggiungere nuovi colori, ad esempio clicco, posso assegnare anche un nome alla variabile del colore, in questo momento lascio quella predefinita. Aggiungo anche ad esempio un giallo e aggiungiamo un altro colore. Ok, fermiamoci qui al momento. Ora ho tutte queste sezioni che mi permettono di definire i colori dei vari elementi. Ad esempio posso definire un colore per il link, in questo modo vedi che ho già la tavolozza globale che ho definito poco fa, supponiamo il fucsia per il link e quando ci passo sopra con il mouse diventano più scuri. Vedi che anziché assegnare un codice esadecimale al colore, viene utilizzata la variabile CSS. Questo ha dei vantaggi. Il vantaggio principale è quello che ovunque sul sito utilizzata questa variabile, quando vado a modificare il colore, è modificato automaticamente in tutto il sito. Non devo più entrare ad esempio articolo per articolo per modificare i colori, ma questo lo vedremo tra poco. Posso anche andare qua nel header e cambiare i colori, anche nel livello di contenuto, scegliere il background, i colori dei link all'interno del contenuto, i titoli, eccetera, eccetera. Clicco pubblica e per il momento ci fermiamo qua. Andando a vedere all'interno dell'editor di WordPress, vediamo ora come sono gestiti i colori. Quindi riclicco su questo paragrafo che ho modificato prima, vado in colore e vedi che ora hai esattamente gli stessi colori impostati qua nei colori globali. Questo ha un enorme vantaggio perché se io ad esempio ora scelgo questo colore di sfondo e questo colore del testo, clicco aggiorna, andiamo a vedere l'articolo e supponiamo che questo non sia il solo articolo nel quale ho impostato un paragrafo con sfondo, fucsia e testo bianco. Ne ho magari impostati 10, 20, 30, 40. Nella situazione precedente, se avessi voluto cambiare il fucsia con un verde, sarei dovuto entrare in 1, 2, 3, 20, 30 articoli e modificare il colore. Ora invece mi basta andare in personalizza, vado in colori e se decido che il fucsia non mi piace più su questo sito, vado qua e gli assegno un altro colore e vedi che in automatico anche il colore applicato all'interno dell'editor Gutenberg di WordPress eredita le nuove impostazioni. Ora ritorniamo al nostro fucsia. Ok e clicco pubblica. E comunque vedi tutte le sezioni che è a disposizione per personalizzare i colori del sito. Andiamo però a vedere il discorso font. Torno indietro, vado in tipografia. Il nuovo sistema ti permette di creare diverse famiglie di font e poi assegnarle dove vuoi all'interno delle varie sezioni del sito. Quindi non abbiamo più un elenco di tutti i posti, titoli, bottoni, sidebar eccetera eccetera per assegnare il font. Crei tu le sezioni che vuoi personalizzare. Se non le vuoi personalizzare non hai niente da gestire quindi c'è anche un'interfaccia molto più pulita. Cliccando qua su add font possiamo aggiungere una nuova famiglia di font che può essere locale oppure attingere alle numerose famiglie presenti su Google Fonts e rispetto alla versione precedente di GeneratePress sono già tutte disponibili. quindi se io qua cerco un font, ecco quello trovo, qua il nome della famiglia, qua la categoria e qua tutte le varianti che posso decidere di attivare o non attivare. Quindi più varianti hai attive più il font pesa, quindi appesantisce il caricamento della pagina. Se a te non servono tutte queste famiglie, tipo non ti serve la variante 100 e neanche quella 200, le eliminiamo e abbiamo un peso minore. Aggiungo un'altra famiglia, supponiamo un open sense eccola qua e anche in questo caso possiamo gestire le varie varianti. Chiudiamo. Ora che abbiamo le nostre due famiglie possiamo decidere cosa andare a personalizzare. Quindi clicco add typography e scelgo l'HTML di base, quindi la regola base per il font principale di tutto il mio sito. In questo caso scelgo che il font principale sia un open sense e la dimensione base sia 16 pixel. Posso scegliere anche l'altezza dell'interlinea, la spaziatura tra le lettere e così via. Così come il peso del font e anche la trasformazione del testo, sia se tutto maiuscolo e tutto minuscolo eccetera eccetera. In questo caso essendo comunque il font base non applico alcuni di questi interventi. Posso poi decidere ad esempio i titoli. Quindi aggiungo la tipografia e scelgo che vado a intervenire sul titolo del sito. Quindi scelgo site title, scelgo la famiglia in questo caso poppins e vedi che il titolo assume un altro aspetto perché ho variato il font. Posso aumentare la dimensione del font. Le dimensioni dei font inoltre le puoi gestire in pixel, in M, in RAM o in percentuale. Tutte queste tre sono unità di misura variabili che necessitano di un approfondimento un pochino tecnico. Quindi ti invito a leggere la documentazione relativa ai CSS per capire esattamente cosa significa M, cosa significa REM e cosa significa la percentuale per quanto riguarda le dimensioni dei font. Come vedi però in questo modo hai la possibilità di aggiungere elementi tipografici e andare a personalizzare tutte le varie sezioni del sito. Quindi il top bar, i widget, il footer, elementi della sidebar primaria o secondaria, elementi del menu e così via. Ma soprattutto è stata introdotta anche la funzione custom che ci consente di andare a gestire attraverso questa interfaccia anche qualunque altro elemento della pagina. Questo cosa significa? Vediamolo con un esempio. Al momento chiudiamo qua, clicchiamo pubblica, esco, vado in menu e qua in menu abilito la gestione delle classi delle varie voci del menu. Quindi vado qua e attivo la voce classi CSS nel menu. Supponiamo che la voce servizi voglio applicare alla classe che chiamo evidenza. È un nome che do adesso in maniera arbitraria quindi non è che deve chiamarsi per forza così. Chiamo evidenza, salva, vado a vedere il mio sito ed ora con gli strumenti del browser vado a ispezionare questo elemento e vedi che c'è l'elemento link contenuto nell'elemento nel tag lì della lista con la classe evidenza perché è quella classe che abbiamo inserito noi. Quindi se io ora vado in personalizza, vado in tipografia e qua aggiungo come tipografia un elemento custom se io ad esempio qua scrivo li.evidenza a, quindi creo la regola per andare a selezionare questa voce scelgo qua 900. Vedi che proprio questa voce del menu selezionata posso gestirla qua all'interno di questa interfaccia. Ora il risultato è abbastanza bizzarro e surreale però quello che volevo farti vedere è che con questo strumento hai la possibilità di andare a selezionare un elemento preciso della pagina o un tipo di contenuto e gestirlo direttamente da qua senza dover ad esempio gestire un poco di cose qua nell'interfaccia personalizza e un po' scrivendo del codice CSS a parte. Puoi aggiungere anche delle regole personalizzate per intervenire sui vari elementi. Ora eliminiamo questa regola e vedi che ritorna tutto alla normalità. Tra l'altro se utilizzi il plugin Generate Blocks che è un plugin che ti consiglio se lavori con l'editor Gutenberg hai la possibilità di sfruttare tutte queste novità anche all'interno di questo plugin. Ora vado a creare una sezione utilizzando il plugin Generate Blocks quindi accelererò un po' la velocità del video per velocizzare le cose. Ora che ho creato questo contenuto vedi che selezionando questo blocco ho la possibilità di utilizzare come colori gli stessi definiti a livello globale. Come hai potuto vedere queste novità introdotte con la nuova versione di Generate Press sia nella versione gratuita ma soprattutto nella versione premium ha a disposizione un maggior livello di controllo e un'incredibile facilità d'uso e soprattutto di modifiche e di intervento quando si tratta di personalizzare ogni aspetto del tuo sito per quanto riguarda soprattutto i font e anche i colori. Se hai trovato utile questo video ti consiglio di iscriverti al canale e attivare le notifiche. Ciao e a presto!